e prendimi sta già funzionando? si si sta già funzionando ok, tranquillo facciamo il mio amore buona 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 bene bene buona 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 qua però c'è c'è un po' buio c'è una luce che cazzo qua si c'è c'è devono essere queste qua no, ho sbagliato questa qua perfetto devi andare in quella porta lì guarda allora tu riprendimi e ti faccio vedere in quell'angolo dove c'è la scala tu riprendi ma lì dove c'è proprio una scala guarda qua qui sopra questo lato qua bel bato qua qua guarda qua guarda ah guarda 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 qui argosto qui che dove c'è etera